Oggi proveremo a rispondere a una delle domande più frequenti che mi vengono fatte ormai di continuo. Quali sono i migliori strumenti per andare ad investire sull'S&P 500, ovvero l'indice americano ritenuto ormai l'indice primario al mondo? Un vecchio proverbio cinese infatti diceva, date ad un uomo un pesce mangerà per un giorno, insegnategli a pescare e mangerà per tutta la vita. In questo video infatti non solo andremo a vedere quelli che sono veramente i migliori ETF per andare ad investire sull'S&P 500, ma soprattutto condivideremo una serie di osservazioni per farvi capire come sono arrivato a definire che quelli siano effettivamente i migliori strumenti. Quindi c'è veramente tanta carne al fuoco e iniziamo subito, spazio alla sigla. Ciao ben ritrovato qua su questo canale, io sono Yuri se ancora non mi conosci e su YouTube mi piace condividere quelle che sono le mie passioni, in particolar modo finanza personale e investimenti, quindi se sei interessato a questi argomenti ti invito fin da subito a iscriverti al canale e attivando anche la campanella non perderai assolutamente i prossimi nuovi video. Per tutti coloro che invece sono già iscritti vi invito a lasciare un bel mi piace qua sotto perché contenuti come questo richiedono comunque del tempo e dello sforzo e quindi con un semplice mi piace ci potresti comunque aiutare ad emergere all'interno dell'algoritmo di YouTube. La seconda premessa che vorrei fare e poi entriamo subito nell'analisi del video è che avevo già fatto un video riguardo su qual è la scelta migliore del principale ETF da inserire all'interno del nostro portafoglio. La grande dibattutissima questione tra ETF sui paesi sviluppati ed emergenti oppure S&P 500. Avevo già detto la mia in quel video ma ci sono davvero altre osservazioni molto valide che poi vorrei riprendere in prossimi successivi video come per esempio l'osservazione di Warren Buffett che sostiene che si può investire nell'S&P 500 soltanto in quanto le aziende americane nella sostanza poi dopo vanno a vendere e ad acquistare in tutto il mondo. Quindi anche solo andando ad acquistare le big company americane nella sostanza si va ad investire in tutti i paesi del mondo. È un'interessantissima questione che mi piacerebbe poi approfondire in altri video. Ed ecco perché facciamo un video su migliori strumenti solo per l'S&P 500 per chiunque volesse proseguire questo tipo di strategia e questa corrente di pensiero. Entriamo nella piattaforma Just ETF, quella piattaforma che dovete imparare a conoscere e ad utilizzare a memoria se volete investire in maniera autonoma i vostri risparmi. Nella sezione di sinistra sarà possibile quindi filtrare gli strumenti per indice. In questo caso andremo a selezionare l'S&P 500. Ci escono fuori quindi numerosi strumenti che vanno a replicare questo indice. Ma quali sono quindi i migliori strumenti all'interno di questa lista? Vediamo subito il primo grande criterio per fare una scrematura di questa lista. Infatti spesso vedo online che vengono riportati alcuni strumenti consigliati come per esempio quelli che vi mostro in questa schermata. Questi pur avendo delle buone caratteristiche sono strumenti sul quale io non andrei mai ad investire. Questi sono strumenti a replica sintetica. Il mondo dei ETF si divide infatti in due grandi tipologie replica fisica e replica sintetica. Ma se io devo andare a selezionare lo strumento sul quale molto probabilmente andrò ad investire la gran maggior parte dei miei risparmi, quindi lo strumento principale che devo mantenere per i prossimi 20 se non 30 anni, non vado a selezionare uno strumento a replica sintetica. Tipologia infatti riservata solo a chi è più esperto che comporta anche maggiori rischi. Questo non significa che non dobbiamo investire negli strumenti a replica sintetica. Magari li prendiamo in considerazione per ETF settoriali, ETF più specifici, particolari, non certo per l'ETF principale del nostro portafoglio. Dopo aver selezionato quindi gli strumenti a replica fisica guardiamo il secondo criterio, in questo caso l'età dell'ETF. Mi concentrerò solo su quegli ETF che sono stati lanciati da alcuni anni, in quanto non voglio correre il rischio che un ETF in futuro possa non aver preso volume a sufficienza, tali per cui il gestore andrà a chiudere quell'ETF. Questo comporterebbe il pagamento di un'eventuale plusvalenza su tutti gli interessi maturati ed è un rischio che non posso correre per quello che è lo strumento principale del mio portafoglio. Terzo criterio per proseguire in questa particolare ricerca. Se avete seguito infatti i video precedenti sapete che gran parte degli ETF in Europa infatti vengono domiciliati o in Lussemburgo o in Irlanda, ma quest'ultimo paese ha stretto un accordo con gli Stati Uniti proprio per evitare una doppia imposizione sui dividendi. Per questo quindi andrò a selezionare solo quegli strumenti che sono domiciliati in Irlanda perché questo implicherà necessariamente un vantaggio fiscale anche se poi vado a scegliere per lo strumento ad accumulazione. Ma in ogni caso, anche se non vedo materialmente ricevuti i dividendi, alcune di quelle aziende contenute all'interno dell'S&P 500 nei prossimi anni distribuiranno sicuramente dei dividendi. Quarto e quinto criterio che voglio andare a presentare insieme, ovvero volume di scambio e ter costo dell'ETF. In maniera molto semplice ci concentreremo maggiormente, non è detto che siano i migliori, ma ci concentreremo sicuramente maggiormente su quelli che hanno dei volumi superiori e un costo anche più basso, visto che tendenzialmente vanno ad investire nello stesso indice. Ci sono poi dei criteri secondari che comunque ci potrebbero aiutare ancora di più a limitare la lista, ma ve li presento nella parte finale del video. A questo punto quindi dobbiamo anche fare delle scelte in base un po' alle nostre politiche soggettive di investimento, ovvero decidere se vogliamo utilizzare strumenti a copertura cambio oppure meno e dall'altro lato dobbiamo scegliere se utilizzare strumenti ad accumulazione o distribuzione. In merito a queste due scelte non esiste un giusto o uno sbagliato, ognuno può fare le proprie decisioni, comunque ho fatto dei video a riguardo se sei interessato e se vuoi prendere come spunto. Il mio pensiero è che per l'ETF principale del proprio portafoglio questo non possa essere a copertura cambi e allo stesso modo di accumulazione, in quanto lo terremo per il lungo periodo e quindi questo ci aiuta ad aumentare il nostro patrimonio finale. Prendendo in considerazione questa doppia scelta arriviamo a quello che è quindi l'ETF probabilmente più famoso, il CSSPX, ovvero l'ETF più capitalizzato su cui noi investitori europei possiamo infatti investire. Questo ETF potremmo anche definirlo come il Real Madrid degli ETF, in quanto nella sostanza è quello veramente più diffuso con 50 miliardi di capitalizzazione ed inoltre rispecchia tutte quelle ottime caratteristiche che abbiamo visto con i criteri precedenti. Inoltre poi ha un costo davvero davvero basso, 0.07% anno, ma voglio dire ragazzi ma cosa volete di più degli investimenti rispetto a uno strumento di questo tipo che investe nelle principali aziende americane ad accumulazione non copertura cambi con un costo così limitato? Nella sostanza potremmo davvero chiudere il canale e smetterla qua perché di cosa stiamo parlando, dai! Ve ne consiglio però un altro in quanto l'ETF di iShares appena visto ha un piccolo limite. L'ETF in questione ha minore capitalizzazione, un prezzo unitario più basso intorno a 70€ e comunque un costo sempre molto limitato, sempre pari allo 0.07% anno. Quindi anche questo davvero consigliato. Passiamo adesso agli ETF di distribuzione. Anche in questo caso nuovamente Vanguard e iShares la fanno da padrone. Infatti gli ETF che vedete rappresentati qua sono quelli principali con i maggiori volumi e quindi quelli che vanno anche ad avere un prezzo inferiore. Dal punto di vista delle caratteristiche buoni ETF sono anche quelli di HSBC o State Street che però avendo dei volumi inferiori vengono fatti pagare leggermente superiore e quindi se dovessi proprio scegliere preferirei uno tra quello di Vanguard oppure di iShares. E per quanto riguarda invece la copertura cambi, qualora qualcuno volesse propendere per questa strategia ed evitare rischi sul cambio d'euro-dollaro, allora per quanto riguarda strumenti ad accumulazione quello che vi consiglio è lo strumento di iShares. In questo caso lo strumento costerà un po' di più rispetto a quanto visto in precedenza in quanto il costo passa da uno 0.07% del CSS PIX ad un 0.20% ma questo altro non è che il prezzo aggiuntivo che dobbiamo pagare per avere la copertura cambi. Questo è lo strumento più capitalizzato e forse il più anche frequente. In ogni caso per quanto riguarda questa tipologia accumulazione con copertura cambi ci sono anche degli strumenti che costano un pochino meno hanno magari delle caratteristiche diverse rispetto a quello di iShares quindi qua si potrebbe comunque andare a fare una selezione un po' diversa. Ma questo in ogni caso è quello secondo me principale che uno dovrebbe prendere come punto di partenza per le proprie analisi. E per quanto riguarda distribuzione a copertura cambi ormai rispondiamo anche a questa domanda quindi completiamo poi il quadro. In questo caso ricercando sulla piattaforma di Just ETF esce solo un unico ETF che è quello di Lixor che a copertura cambi ha buoni volumi e soprattutto ha un costo comunque tutto sommato limitato 0.09 quindi anche questo può essere un'ottima scelta anche se ha un volume di circa un miliardo di capitalizzazione. Prima di passare alle conclusioni ed altre osservazioni ci tengo comunque a ricordarvi a tutti voi che io non sono un consulente finanziario. Le mie parole, i miei video e i miei contenuti online non vanno considerati infatti come una spinta ad investire in quanto ciascuno è responsabile in ambito finanziario delle proprie decisioni e delle proprie azioni. Vi invito quindi sempre a fare le vostre analisi magari sfruttando alcuni ragionamenti che a fini educativi condivido qua su questo canale. Arriviamo alle conclusioni di questo video. Fino a questo momento del video vi ho mostrato quindi i criteri principali per andare a selezionare e filtrare la lista quando dovete fare le vostre ricerche. Questi criteri e queste osservazioni potete utilizzarle anche per la ricerca di strumenti differenti rispetto all'SMP 500. Per poi una più accurata selezione potremo prendere in considerazione come dicevo in precedenza di criteri secondari che però non vorrei prendere in considerazione in questo video perché riguardano forse coloro che sono più esperti. Alcuni di questi criteri a titolo d'esempio sono il prestito titoli il tracking error oppure le commissioni del nostro broker ad andare ad investire su determinati mercati i volumi differenti che possano avere lo stesso strumento all'interno però di mercati diversi così come la disponibilità o meno ad avere accesso a determinati mercati all'interno del broker o della piattaforma titoli che stiamo utilizzando. Oppure potremmo prendere anche in considerazione fare un'analisi sul bid-ask spread che dipende sia dai volumi e dal prezzo unitario il prezzo unitario come anche detto in precedenza può essere comunque un altro elemento chiave che ci fa propendere o meno per un determinato strumento. Infine per quanto riguarda gli strumenti a distribuzione anche se vanno a replicare lo stesso indice potremmo comunque andare a vedere anche il dividend yield distribuito in passato da quello specifico strumento. Infine vorrei concludere questo video sperando di aver condiviso una serie di utili ed interessanti osservazioni che vi possano essere di aiuto anche per il vostro futuro. Spero che possiate aver anche apprezzato la condivisione di questi strumenti in maniera del tutto gratuita perché probabilmente online qualcun altro contenuti di questo tipo più elevati rispetto allo standard potrebbe comunque offrirli ma a pagamento. Io ti ringrazio per aver visto fino alla fine e ti do appuntamento al prossimo nuovo video che uscirà sempre qua sul canale. Ciao a presto! Ciao a presto! Grazie.